Seconda parte del nostro telegiornale, un aggiornamento sui risultati delle elezioni regionali. Sono state scrutinate al momento 1.332 sezioni sulle 5.308 di tutta la Sicilia. Rosario Crocetta aumenta il vantaggio con il 32% dei voti nei confronti di Nello Musumeci che si attesta al 25%. Cancelleri del Movimento 5 Stelle supera al momento Micciche con il 18% dei voti contro il 15% dell'esponente di Grande Sud. Cambiamo argomento, si è svolta sabato a Ragusa una conferenza per ricordare il giornalista Giovanni Spampinato ucciso 40 anni fa il 27 ottobre. L'appuntamento ha preso parte anche Achille Occhetto, storico rappresentante del Partito Comunista in Sicilia in quegli anni. Vediamo. In ricordo di Giovanni Spampinato, il giornalista oggi avrebbe 65 anni, qualcuno però ha deciso di fermare la sua vita con alcuni colpi di pistola quando di anni ne aveva appena 25. Giovanni Spampinato continua però a sopravvivere nella testa e nel cuore e sulle spalle dei familiari innanzitutto, dei suoi amici, ma anche dei tanti giornalisti che non lo hanno conosciuto e non hanno potuto misurare, apprezzare, condividere o contestare il suo giornalismo. Assassinato perché cercava la verità. Questo è stato il titolo dell'ora del 28 ottobre di Vittorio Nisticò e quel titolo dice tutto sul taglio professionale che Giovanni Spampinato aveva deciso di darsi in una provincia come quella di Ragusa, che viveva ai margini dell'informazione in Sicilia. A 40 anni dalla sua morte, il centro studi Feliciano Rossitto, la sezione di Ragusa della Sostampa e l'Aiga di Ragusa hanno promosso un incontro per ricordare la figura del corrispondente dell'ora con il contributo del giornalista Franco Nicastro, dell'avvocato Chetano Barone e dell'ex segretario regionale del PC dell'epoca Achille Occhetto. Occhetto ha ripercorso le tappe di quella vicenda quando era segretario regionale del PC e quando è venuto a inaugurare la sede del PC a Ragusa intitolata proprio Giovanni Spampinato. Quando celebriamo Spampinato bisogna togliere i veri alla stagione stragista che ci fu in quegli anni in Italia, dalla strage di Piazza Fontana all'Italicus. Giovanni Spampinato ha aggiunto a Chetto, non si è limitato a dire la verità ma l'ha cercata perché non era un semplice passacarte. Il suo omicidio rimane ancora un caso scuro, non fu un affare di famiglia ucciso da un giovinastro matto ma con i suoi metodi consentì di fare luce su alcune trame e su alcuni strani rapporti che ancora oggi sono i misteri dell'Italia. Noi quando celebriamo Spampinato dobbiamo porci il problema morale di sollevare questi beni. Siamo avvolti ancora in un grande mistero. Sappiamo per certo che mafia, estremisti di destra e settori dello Stato, giù giù fino in fondo alla banda della Magliana, hanno più volte collaborato. E anche questa è l'Italia. E quindi dobbiamo sapere che basta poco per ingannare le indagini. Circostanze non valorizzate, indicazioni non approfondite, indizi non tenuti nella dovuta considerazione. La commissione giudicatrice ha prescelto il bozzetto vincitore del concorso fra artisti per la realizzazione di un'opera d'arte scultoria da collocare nel plenum del blocco numero 2 dell'aerostazione dell'aeroporto di Comiso. All'unanimità la commissione ha dichiarato vincitore il bozzetto dell'artista Carmelo Candiano denominato la grande finestra. E' arrivato il freddo anche in Sicilia. I meteorologi lo avevano preannunciato. In queste ore Cassandra, questo è il nome del ciclone mediterraneo responsabile del brusco calo di temperature, è arrivato nella nostra regione. Vediamo. Addio alle maniche corte anche in Sicilia e questa volta pare essere un addio definitivo. Da qualche ora nella nostra regione è arrivato il ciclone mediterraneo Cassandra che ha fatto calare le temperature di diversi gradi. Le previsioni meteo dunque pare non si siano sbagliate, anche se finora delle piogge prospettate non se ne è sentito neanche l'odore. Il freddo, come dicevamo, è invece arrivato. E se in Sicilia sono lontane le immagini che da ieri arrivano dal nord, una certa impressione, dopo oltre cinque mesi di calde temperature, la rigidità di oggi la fa. Notevole anche il vento che sta soffiando sull'isola e sulla penisola intera, che ha avuto ripercussioni sul traffico marittimo e aereo. Cassandra dovrebbe allentare la morsa domani, ma già da mercoledì è atteso un nuovo fortissimo rapido peggioramento per la formazione di un profondo ciclone mediterraneo che causerà sull'Italia una vera e propria tempesta di Halloween. Insomma, non ci sono dubbi, l'inverno è proprio arrivato. Ma certamente la tempesta di Halloween, prevista come avete sentito nel servizio precedente per mercoledì, non fermerà i festeggiamenti in occasione appunto di Halloween. Sentiamo. Scherzetto o dolcetto? Mancano due giorni alla festa di Halloween e i tanti appassionati, soprattutto giovani e giovanissimi, sono in fibrillazione. Se infatti questa festività di origini anglosassoni è arrivata in Italia da poco, di anno in anno si è sempre più diffusa. Nei vari paesi si organizzano diverse iniziative, dalle sfilate in costume ai giochi dei bambini che girano di casa in casa chiedendo dolcetto o scherzetto. Elemento tipico della festa è la simbologia legata al mondo dell'occulto che si ritrova nelle immagini macabre, tra cui le zucche intagliate. Quella delle zucche è una tradizione che si rifà a quella di intagliare delle rape e farne delle lanterne per ricordare le anime bloccate del purgatorio. La rape è stata usata tradizionalmente in Irlanda e Scozia, ma gli immigrati in Nord America usavano la zucca originaria del posto e disponibile in quantità molto elevate. L'alone macabro che circonda questa festa è da ricercarsi nella cultura celtica, il cui calendario indicava nel primo novembre l'inizio del nuovo anno. Questo giorno per i celti coincideva con la fine della stagione calda e dunque con l'arrivo dell'inverno, che essendo questo popolo principalmente agricolo era associato all'idea di morte. Ma a bando agli aspetti negativi e presagi di morte, caratteristica della festa di Halloween, lo accennavamo prima, è il classico detto dolcetto o scherzetto. I bambini in costume vanno di casa in casa chiedendo dolciumi e attenzione a non darli. Lo scherzetto è infatti una minaccia di fare danni ai padroni di caso o alle loro proprietà, altro che ridere. Passiamo adesso alla pagina sportiva. Ieri si è giocato regolarmente il campionato di Serie D. Il Ragusa ha superato 2 a 1 il Paternò. Il Ragusa torna a vincere contro il Paternò. Come sempre la partita comincia con gli abbracci dei tifosi delle due squadre gemellate da anni. Bella gara, giocata su un campo quasi perfetto. Il Ragusa privo dei due difensori centrali è schierato a Gona al fianco di Fontana. Quest'ultimo ha rimediato il giallo che lo terrà fuori dalla sfida di domenica prossima a Palazzolo. Paternò quasi mai pericoloso dalle parti di Falco. Il Ragusa invece ha fatto la gara almeno per tre quarti della stessa. Il gol del Ragusa arriva alla mezz'ora. Calcio d'angolo, svetta altissimo Gona che di testa supera Vecchio per l'1-0. Nella ripresa mister Anastasi mette in campo arena al posto di Crucitti, ancora lontano dalla migliore forma. Fino al minuto 20 le squadre si sono equivalse con gli ospiti un po' nervosi. Al minuto 24 del secondo tempo arriva invece il raddoppio. Buscema recupera palla sulla tre quarti del Paternò. Passaggio filtrante per Panatteri che piazza alla sinistra di Vecchio per il 2-0. Al novantesimo arriva il gol del Paternò con il giovane Malvuccio. Ultimi tre minuti al caldeopalmo. In eccellenza domenica di riposo a causa della concomitanza con la tornata elettorale. La giornata sarà recuperata mercoledì 31 ottobre alle 14.30. In programma ci sono le partite Rosalini Comiso, Vittorio Misterbianco, Modica Atletico Gela. Rinviate alla stessa data 31 ottobre anche la promozione della prima categoria. Il Real Ragusa Biscari ospiterà l'ellenica a fischio d'inizio sempre alle 14.30. E' tutto, vi ricordo il nostro sito all'indirizzo free tv online 1.it, la nostra pagina Facebook free tv comiso. Grazie per la cortesa attenzione, prossime edizioni alle 19.30. Grazie. 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 Grazie.